Grazie Irno, vorrei parlare della tua vita, dei tuoi primi momenti, della tua carriera come attore. Ok, ho studiato a una scuola di teatro in Philadelphia chiamata Freedom Theatre, quando ero 13 anni. Poi mi sono riusciti a New York e ho studiato a Strasburg per le arti drammatiche. Ho studiato a una nuova scuola per la musica. Poi mi sono riusciti a New York, ho spiegato in band, ho studiato musicale per un tempo. Poi mi sono riusciti a California per essere un attore. Seconda domanda, noi conosciamo il tuo nome come attore, soprattutto nella serie di TV CSI, ma parleremo di tua passione per la musica, come è nata la tua crescita? In musica? Sì. Mi sono venuto da una famiglia musicale, mio fratello e mio figlio erano musicisti, quindi ero sempre in musica. E vorrei lasciarmi sapere i tuoi prossimi dati in Italia? Abbiamo un dati in Bergamo, nel settembre. Oggi stiamo spiegando. Oggi stiamo spiegando con la Rai Orchestra e Pietrocina. E la ultima domanda, hai avuto questa esperienza in Italia? Sì. Oh, very much. Sì. 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti 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 Yeah Yeah Grazie a tutti 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 Yeah 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 Grazie a tutti